questa qui è una rage room altrimenti chiamata in italiano stanza della rabbia la susta perché siamo in puglia quindi noi la rabbia la conosciamo appunto come susta e arrivi qua e sfughi tutta la tua rabbia spaccando tutto quello che trovi all'interno di questa stanza quindi a un certo punto lasci qui la rabbia ed esci rilassato e felice da questa stanza si trova veramente di tutto dal vetro ceramica tazze e tazzine per chi magari è preso dalle faccende di casa si possono trovare ferri da stilo piuttosto che aspirapolveri per chi è preso dall'ufficio si possono trovare che dei computer piuttosto che delle stampanti ci rendiamo conto che il tram tram quotidiano è veramente frustrante a volte comunque le rage room sono presenti in tutta europa da un po di anni da qualche anno sono arrivate anche in italia insomma ne abbiamo colto l'occasione per mettere in piedi questa questa rage room la sessione di gioco dura un quarto d'ora massimo si può stare in due persone per una questione di sicurezza e abbiamo qui la gabbia perché a un certo punto insomma chi dei due magari un attimino stanco si vuole riposare si può rifugiare nella gabbia e la risposta è stata scioccante neanche ce l'aspettavamo insomma è stato stiamo riscuotendo un successo che neanche ci aspettavamo perché c'è tantissima curiosità e la cosa bella insomma che è un modo sano per sfogare la rabbia e ripeto molto molto goliardico